Ciao, come state? Bene, bene, molto bene Come vi chiamate? Io Luca, sono la chitarra Cischio, sax, tastiera e chitarra Io Giovanni, voce e chitarra, a volte Io mi chiamo Matteo, sono la batteria Michele Basso Di che gruppo fate parte? Noi siamo in Tanz Academy Da quanto tempo suonate, grosso modo? Eh, beh, un bel po' in realtà Però prima eravamo solo io e lui Poi si è giunto lui E poi si è giunto lui E lui è la New Entry Che è con noi da... Tre mesi Da luglio E come dicevi il formato? Prima avevamo un altro nome In realtà è tutto nato inizialmente da un mio progetto Io scrivevo le mie canzoni E poi le portavo a lui E le arrangiavamo Però di recente almeno Si ha l'intenzione di avere un format Molto più collaborativo Che... Cioè una volta praticamente Era il mio progetto e basta Era una dittatura Era una dittatura No, non era una dittatura Però... Sì, no Adesso siamo una vera e propria band Direi Pensavo che sia una vera e propria dittatura Poi... Le canzoni... Principalmente nascono da me Che le scrivo Ma poi prendono anche un'altra forma Perché ognuno ci mette Soprattutto proprio gli ultimi pezzi Li abbiamo arrangiati più in gruppo Sì E di cosa trattano i vostri testi? Lui è l'unico che li sa Infatti No, no Lui li sanno anche loro Però abbiamo questa cosa Che ogni tanto devo mandargli dei testi Perché voglio che li sappiano giustamente Alcuni li sanno No, li sappiamo No, li sappiamo No, li sappiamo No, li sappiamo Già Li sanno Perfetto Questa è la mia paura Che è stata... È stata risolta qua No, comunque In realtà Tendo a non scrivere Di una cosa in particolare Cioè è successo più di recente Però di solito Scrivevo Magari trattavo Tre o quattro Cinque cose Nella stessa canzone Quindi magari La strofa Parla di una cosa E poi In ritornello La strofa Dopo parlavano Di altre cose Ehm Cose tipo? Cose tipo Vabbè Allora Quelle più datate Diciamo Si concentrano molto Sulla salute mentale Sui disturbi mentali Sul Sullo stare bene O lo stare male A livello psicologico Ehm Quelle più recenti Invece Vabbè Alcune Parlano di Anche Sì No Quelle più recenti A volte per esempio C'è una canzone nuova Si chiama Doomsday E L'idea per il testo Mi è venuta da Un'esperienza Che ho avuto da piccolo A catechismo Ehm E quindi appunto Va a toccare Se vogliamo Dei temi Un attimo più Fuori da me Non necessariamente Introspettivi Introspettivi Esatto Quindi c'è anche Forse una sorta di denuncia Però Mai apertissima Per ora Però appunto Ho notato che Mi è successo Di scrivere Di religione O se no Di relazioni Finite male O se no Anche lì C'è comunque Il tema della salute mentale Per esempio Torna sempre Che è una cosa La quale sono Legato In che lingua Sono i tessi In inglese Perché? No In realtà Non è stata una scelta Cioè Vabbè Sembra che faccia un figo Dirlo Però in realtà Seriamente Da quando son piccolo Ascoltando solo cose In inglese Principalmente Mi è poi venuto Spontaneo Scrivere in inglese Inizialmente Probabilmente Copi Tra virgolette Le cose che ascolti Però Anche con Cioè Ritengo di aver raggiunto Un livello di maturità In cui Ora ho la consapevolezza Di quello che faccio E posso scegliere Come esprimermi Però appunto L'inglese mi viene più naturale Nella musica Poi se devo scrivere una poesia La scrivo in italiano Però È anche quasi Un connotato identitario Un po' Sì Il fatto di Il musica in inglese No diciamo che Eh in che senso Tipico No nel senso Cioè caratterizza molto Cioè un po' L'estrofilia Fa parte un po' A me piaccio pensare Per esempio A Fenoglio e Pavese No Che A quanto pare Entrambi Studiandoli un pochetto Erano fissatissimi Con l'inglese Tant'è che Fenoglio Scriveva i suoi romanzi A volte in inglese E dopo li traduceva In italiano Oppure nelle poesie di Pavese Oppure nelle poesie di Pavese Ci sono Un sacco di poesie Scritte in inglese E io non credo Che nessuno Vabbè magari qualcuno Ai loro tempi Però Mi immagino Non lo so La gente che arriva No perché Ritendo che ci sia Un po' Una pressione Soprattutto oggi Nel nostro periodo storico Proprio a livello musicale In Italia A cantare in italiano E' come quasi Se ci si aspettasse Che tu debba Cantare in italiano Sì una sorta di rottura Se prima era Il contrario Cioè c'era L'influenza Dell'anglofilia E tutti Volevano copiare Gli inglesi O gli americani Cantare in inglese E quindi cantare in italiano Potrebbe essere Un po' un atto Di rottura Appunto Di ribellione Oggi secondo me In maniera abbastanza Divertente In realtà È un po' il contrario Nel senso Se tutti cantano In italiano In Italia Quello che fa successo È in italiano E quindi L'inglese Secondo me Oggi è La rottura Però ovviamente Non lo faccio Per senso di ribellione Campatinare Ma perché mi viene naturale Esprimermi in inglese Nella musea I can't assessiz I wonder what it says Don't push you away I can't assessiz I wonder what it says Don't push you away I can't assessiz Grazie a tutti. E da dove prendete ispirazione per creare la musica? Io personalmente un po' da tutto, ma credo anche voi. Cioè ogni volta che ci chiedono la bio della band, diciamo, siamo ispirati da un sacco di cose, tipo la poesia, il cinema e le Alpi, per esempio. Diciamo sempre le Alpi, perché crescendo e facendo viaggi in montagna, da quando siamo piccoli a oggi, almeno io, le Alpi le ho frequentate. Sì, poi c'è da dire anche che da noi, cioè proprio da Alba, le Alpi si vedono sempre da lontano, tipo il tramonto, l'Alba rappresentano un po' anche questo mondo magico. Non so, io mi vedo sempre questo muro che c'è là, veramente, non lo so, qualcosa di che va oltre. Sì, sì. Io sono molto legato alle Alpi. Io anche. E diciamo che probabilmente è il lato, dire spirituale è forse una parola eccessiva, però è il lato spirituale della musica, no? Che poi è la natura. Però, appunto, le Alpi mi ricordano anche molto la mia infanzia, c'è una connessione sia umana che non umana. Il nostro nome viene da un film, Tanza Academy viene dal film Suspiria, di Dario Argento, un remake di Luca Guadagnino che io ho apprezzato moltissimo, anche se Dario Argento non l'ha apprezzato, ma io l'ho apprezzato un sacco. Tant'è che il nome viene forse... Cioè, mi ha ispirato di più il remake di Guadagnino che l'originale Dario Argento. Denunciatemi se volete. E quali artisti vi piacciono? Una testa, vai Luca, parti tu. Beh, probabilmente ci incontriamo tipo nel Cure, in quella roba post-punk. Esatto, sì. Poi ognuno ci ha delle influenze più risparute. Sì, io sono cresciuto un po' con mio padre che mi faceva sentire il post-punk, la new wave inglese, e Bowie che è sopra a tutto. Forse io tra le cose che ascolto più vicino a quello che facciamo ci sono gli Arcade Fire. Assolutamente. Sì, appunto, anche contemporanei. E poi ovviamente... Di contemporanei? Eh, ovviamente non posso... Cioè, almeno io personalmente, ma in parte anche loro, ho subito il fascino... Ho subito pesantemente il fascino del revival post-punk, cioè in questi anni, no? Negli anni venti, cioè... È ritornato in Inghilterra, in Irlanda, eccetera. Che gruppi? Fontaine's DC, Idols, Shame. E in realtà è stato importante per me personalmente che sia tornata quell'onda, perché lo scollega da un discorso anacronistico e lo riporta a essere contemporaneo e attuale e importante. E invece la musica italiana non vi piace? No, no. Sì, ci piace. No, no, certo che ci piace. No, no, ci piace, ci piace. Ne andrei piace a tutti, partiamo da questo. Forse non incanaliamo il nostro amore per la musica italiana in questo progetto. Esatto. Cosa che teniamo più in altre cose. Sì, per esempio, lui, Mike, ha il suo progetto. Sì, anche stato cantautore, eccetera, quindi... Però, appunto, non sono cose che finiscono anche nei Tanz Academy. Sì, almeno quello che finisce in Tanz Academy, appunto, in maniera abbastanza divertente, sono i progetti italiani che cantano in inglese, che ce ne sono diversi, che mi piacciono. Però anche, in realtà, voglio dire, i Verdena, che ne so, piacciono, sono fighi. E cantano in italiano, quindi... Proprio italiano nel 90, un po'. Sì, sono stati un'influenza anche loro, soprattutto quando ero piccolo, sì, le medie, prima liceo, non so. Sì, sono stati un'influenza anche loro, la live concerti. Vi piace il palco o vi terrorizza? Personalmente mi piace un bot. Sì, siamo fanno... A Cischi mi piace un bot. A me piace un bot. Ah, io ho fatto una bella parabola in cui ho sempre avuto difficoltà non a stare sul palco, ma a esprimermi sul palco. Di recente mi sento un po' più sciolto. Sarà anche da quando suono meno la chitarra, anche perché si è giunto lui, eccetera, e quindi ho più spazio per muovermi, esprimermi con i gesti. Però sì, all'inizio facevo fatica. A me spaventa più. Adesso anche ogni tanto, però... Working for our guests. No, dicevo che a me spaventa più quasi per quanto mi piace, cioè non voglio diventare dipendente dall'esibirmi. a me spaventare... A Cischi mi piace troppo. Sì, è questo. Questo si deconcento. Fa paura, questa cosa. Perché capita magari ultimamente che abbiamo dei live nei giorni successivi, tipo ieri abbiamo suonato, oggi li suoniamo, e il giorno di mezzo... Flesciato. Sono flesciato, sono sovraeccitato, devo stare fermo, che non riesco. Sì, sì, esatto. Cioè, una cosa che ho notato io, per esempio, è che noi, essendo in una posizione in cui non abbiamo un sacco di live, però ne abbiamo di più adesso di quanto ne abbiamo mai avuti. E di sicuro, se una volta avevi un live in un mese, e in quel live ti spaccavi e ti ubriacavi dopo, eccetera, adesso non... Cioè, mi immagino, in una situazione in cui hai più live di fila, non sbronzarsi, dormire, sono robe fondamentali. Anche lì, alla fine, c'entra la sanità mentale, in un certo senso, e fisica. Avete una scramanzia prima di salire sul palco? Sì, sì, ce l'abbiamo. Praticamente, in realtà è nato da un live dei Sigurros che ho guardato tempo fa, e prima di suonare c'è questo video in cui si abbracciano tutti, cioè che ognuno abbraccia ognuno, singolarmente, e quindi noi facciamo quello, in realtà. Poi ogni volta, diciamo, una parola, tipo squadra di basket, ma ogni volta è diversa. però questa in realtà è una roba molto più recente, abbiamo fatto solo gli ultimi due. Vabbè, dobbiamo passare da come tra i suoi. E che cosa non deve mai mancare da un vostro concerto? Eh, il flamma. Il flamma. Il flamma. Il flamma. Allora, il flamma, il flamma è questa creatura mitologica che, però in realtà è uno di noi, ogni volta c'è uno di noi che fa delle cazzate, si dimentica qualcosa. Il flamma. Però, non lo so, in maniera più seria direi che cosa va a dire. E' un uomo goffo che si destregge Si, no, che si destregge il goffamento. Contra la flamma. Si, che si destregge il goffamento e fa solo stronzare, diciamo. No, secondo me, secondo me, a noi piacciono i live in cui la gente balla. Quindi, se la gente balla, noi siamo molto cari. Beh, si, certo che cambia moltissimo ed è anche lì, secondo me, l'imparare a stare sul palco. Cioè, dovresti restare uguale per quanto possibile con o senza la risposta del pubblico. Però è ovvio che ce la si augura perché quando c'è anche tu riesci a dare molto molto di più. Però alla fine quello che spero, cioè quello che io vorrei che ci fosse sempre dopo un live è aver avuto la sensazione di di essere stati E' una sensazione strana quando finisci un live. Sì. Sì, è una sensazione strana. No, vabbè, quello si... Cioè, bella perché... Esatto, però io dicevo che quello che... Non riesci a descrivere, secondo me. No, però non è sempre così. Quindi io mi auguro, mi auspico che dopo i live tu hai la sensazione di aver fatto una cosa che ti piace, di essere stato bene, di essere riuscito a esprimerti sul palco. perché è successo che dopo i live personalmente l'ho preso male, eccetera. Sì, sì. Perché inizio a pensare avrei potuto fare quello diversamente, eccetera, non l'ho dato al massimo e quindi diciamo... Per voi l'aspetto estetico di un live è importante? Come vi vestite? Le luci? La scenografia? Io personalmente zero. Cioè, mi piace suonare anche così. Cioè, vengo vestito ai concerti esattamente come mi vesto nella vita. Come si va. Come si va. A me piace questa cosa. Poi mi piace anche di voi. Cioè, che... Sì, in realtà poi noi non è che ci travestiamo. No, no, no. Cioè, io... Cioè, nel senso, per esempio, stasera lui ha una giacca elegante o una giacca elegante, ma le giacche elegante le metto anche se devo uscire a caso perché mi piacciono. Quindi, non è un travestimento. Però sì, probabilmente è un senso estetico. Cioè, almeno per me personalmente è importante per esempio l'abbigliamento ma nella vita in generale, no? Nella band. Guarda le luci mi è venuto in mente. Abbiamo avuto qualche esperienza di interconnessione molto figa. Sarebbe... è una cosa che se... abbiamo tralasciato come... Sì, non l'abbiamo tanto usata però quando è capitato ci piace un po'. Il lockdown vi è servito per sviluppare maggiormente il vostro progetto? Ma il lockdown... In realtà il lockdown è servito proprio per far rinascere il progetto. Sì, il post-lockdown. Sì, perché prima avevamo un... appunto un altro nome, un'altra formazione poi il lockdown sostanzialmente ognuno si è fermato e poi però io avevo questa cosa che mi sarebbe piaciuto riuscire a formare il groom e siamo riusciti dopo il lockdown perché appunto si aveva la sensazione di iniziare sempre da capo con gli eventi della vita, no? Cioè... E durante il lockdown sei riuscito a scrivere qualcosa oppure zero? No, non zero. Ho scritto delle cose, non ho neanche... cioè non ho avuto neanche quella cosa del sono chiuso e quindi scrivo un romanzo. Erano più i film che vedevo, le serie Netflix che vedevo piuttosto che quello che scrivevo. Però, di sicuro, anzi, forse dopo, verso la fine del lockdown, quando si iniziava un po' a riassaporare la vita, è venuta anche più ispirazione. Social, li usate, non li usate? Sì, li usiamo. Cioè, abbiamo una pagina Instagram, siamo abbastanza attivi. Facebook no, perché io lo trovo palloso, però forse dovremmo averlo. No. No. Però sì, io tu... Dove vi troviamo quindi? Tans Academy, il nome su Instagram è tans.academy, penso, sì. E poi abbiamo una mail che è lì su Instagram, abbiamo Bandcamp, Soundcloud, Spotify. E avete già registrato dei dischi? Dischi no, abbiamo fatto uscire un singolo, marzo del 2022. Sì. ci stanno. E la prossima settimana ne registriamo un altro. Sì, stiamo per andare in studio a fare un altro singolo. Dischi o EP non sono nell'immediato, però di sicuro abbiamo l'idea di farlo prima o poi, direi che è abbastanza un obiettivo comune. Video? abbiamo uno per il singolo che però non è precisamente un video ma è stato un footage vecchio, ho trovato royal. Abbiamo fatto il video di Tomorrow. Abbiamo fatto il video di Tomorrow, sì. Tomorrow è un altro singolo. simboli. Giusto. Su YouTube? Su YouTube 2, sì. Questo video che è un collage di tutti i video che abbiamo fatto in una vacanza con i nostri amici, non so quanto sia bello ma io ogni volta che lo vedo... È bellissimo il video, il problema è che la canzone l'ho mixata perché era mixata la canzone ma poi io ho fatto un video e ho mixato il volume del video e l'ho messo strabasso e quindi è bassissimo. Insomma, indipendenti. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Frank Zappa, Captain Wifford e Claude Debussy. Franco Battiato, De Andrè e Michele Reggio. Che l'ichene in realtà. Sì, l'ichene. Allora io direi Fontaine's DC, Neutral Milk Hotel, David Bowie, se non lo conosci devi non lo conosci. Ci sta, ci sta. Shame, personalmente tutto il mondo tutto il mondo Springsteen. Non lo so. Springsteen fan. Springsteen boy. The boss. Random Antico Orchestra. Io direi i Beatles. Elliot Smith. E come terzo American Football direi. Ok, grazie. Mi devi ascoltare meglio. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. domanda a te solo perché suoni per me l'unico modo in cui c'è uno dei pochi modi in cui sono riuscito nella mia vita a sentirmi di aver espresso qualcosa che era dentro di me cioè una delle modalità che ho adottato diciamo da quando ero più piccolo prima volevo disegnare poi non riuscivo a disegnare non ero capace l'ho iniziato a scrivere e poi a suonare ma è successo abbastanza naturalmente quindi non saprei dare un motivo reale se non che posso dirti perché continuo a farlo più che perché lo faccio e continua a farlo perché perché provente mi sento realmente me stesso nel momento in cui lo faccio più che in altri contesti ok grazie grazie a tutti